Cosa non sei passato? Ah ma stai già a registrare, era per... Non posso già registrare? No, perché stai girando. Sennò Gianni, qua, possiamo anche tagliare questa. Cosa è? Un... un nachezio. E dai, dai, un nachezio. Non, 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 non posso prendere la battaglia, perché vissà che la toglieremo. Vai a lei. Corri e poi mi ragazzi, ok? Eh, portevolo in la faverna e il tavolo. Dò, il cavo, il cavo... se c'è una mano potate questa lascia, lascia così si mette non mi fa e chiedi a Vitale che voleva allestire la tenda a modo suo e così non vedi per cosa stai facendo ora facciamo il video a te ok, dai facciamo la tenda dai, dai facciamo la tenda mi ha pensato vero di chi è non capiamo che dite l'inverso voglio vedere io il video se ti prende solo la sei brutto da vedere in primo piano grazie oggi c'è un nostro amico fotografa e al trip adesso di fare i ritratti quindi via gli occhiali, un bel ritrattino devo portare i trucchi no, assolutamente perché penso a fare parecchio bianco e nero quindi no, ma che che altro per me sono gli occhiali si verrà la sciaperta grande, questa cilda continua 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 questa cilda poi non l'ho neanche avuta mi sono giusto lavata la faccia ai denti si che c'è c'è una più spazio poi sulla città ma spegni dato che la batteria si dura meno di un'ora